Hey gente, qui è il studio del Benosucane con questa nuova puntata di Daylong Dark, modalità Tales from the Far Territory. Riprende la narrazione degli episodi di Rudiger, del capo... vabbè, la narrazione del capo della sicurezza è terminata con la sua sepoltura... È terminata con la sua sepoltura in questa zona, in quanto ha fatto una brutta fine la signorina, Beh, è influenzata apparentemente da quel macchinario, comunque dalla nebbia, che pian piano, insieme al freddo, le hanno rovinato la mente, così come a tutte le altre persone che hanno insediato la regione. E Rudiger sperimentava, per l'appunto, gli effetti sulla mente umana, sul conscio, con i suoi apparati, con i suoi studi da scienziato malvegio. Rudiger sembrerebbe anche nasi nasi, eh, 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 capisci? Cosa stiamo andando a parare? Nel ogni caso, stava facendo questi esperimenti, e il morale della storia è che, una volta finito tutto, che ha visto che la gente stava morendo piano piano, ha deciso di scappare. Ha lasciato tutti morire, lui se ne è andato per i fatti suoi, e niente, noi siamo rimasti con un dovere morale di rivelare questo mistero, e soprattutto di... Metterci sulle tracce di Rudiger, e se lo trovo, quel bastardo ha un colpo, dentro sta pistola, con il suo nome stampato. Fa così freddo? Ma non sei grati! Dai, amico mio, ma va bene che sono scalzo, effettivamente? Sono un pochino scalzo, questa c'è ragione. Eh, scusami, ma lì, lì era buio pesto, adesso qui è luce. No, aspetta, no, ok, è ritornato normale, è ritornato normale. Però dovrebbe essere giorno, sì, adesso si scalda, adesso si scalda, stiamo tranquilli. Però devo trovare assolutamente delle scarpe, eh. Devo assolutamente trovare delle scarpe, e nulla. Non vi ho detto qual è l'obiettivo di questa puntata. L'obiettivo di questa puntata è di raggiungere... ...la stazione meteo? No, sì, l'ultimo orizzonte. Entra nel valico sconnesso per trovare prove della fuga di signorino Rudiger. Il valico sconnesso, secondo la build, secondo le update dei signori sviluppatori, sono... il valico sconnesso è connesso per l'appunto a... ...a... come possiamo raggiungerlo? È connesso per l'appunto a... ...Transfer Pass, che sarebbe praticamente la regione dove c'è quel cieco in centrale. Mamma mia, sembrava un lupo per un attimo. Quello è un lupo, mi sembra. In ogni caso, sì, è connesso alla regione... ...Transfer Pass. Ora, come? Non lo so, ma secondo gli sviluppatori c'è una specie... ...c'è un modo piuttosto ovvio per scoprirlo, che consiste... ...in un grosso cartellone che ti dice... ...coglione, da questa strada raggiungi il valico sconnesso. Che in inglese si chiama tipo... ...Sunderhead Pass, mi pare, qualcosa del genere. ...Sunderhead, Sunderella Pass. In ogni caso devo farmi anche del caffè. Ma in realtà no, aspetti, queste cose le dovrei raccogliere. Aspetta un attimo, questi steli di... ...a parte ovviamente... ...la parte commestibile della stiancia. Devo raccogliere anche le teste, perché... ...sono ancora incapace di accedere gli fuochi senza... ...senza per appunto utilizzare le esche. Sfortunatamente. Tiriamo fuori la pistola, prendiamo un bastone... ...perché non ho nulla con cui accendere un fuoco. E dobbiamo fare attenzione ai lupi? No, perché questi lupi sono aggressivi. Appare che sono rincogli uniti di notte... ...che ti caricano da un chilometro di distanza... ...anche senza alcuna ragione. Senza neanche puntargli un'arma o altro, no? Ti caricano, cazzo duro proprio. Senza pietà. E quindi bisogna fare molta attenzione a questi lupi. Ora lo capisco, perché sono malnutriti i poveretti. Non c'hanno un cazzo da mangiare, ma anche io c'ho un cazzo da mangiare. Sto mangiando patatine, stiancia da... ...non so quante puntate. E quindi magari sono più aggressivi per quello. E può anche darsi che sia in realtà... ...l'uranio e comunque i materiali chimici presenti nell'area... ...che altrano il loro comportamento. Insieme ovviamente all'aurora e... ...tutto quello che volete. Può essere di tutto e di più. No, io una cosa la so per certo. Che ho tante cose con cui difendermi. Ma il punto è che queste cose con cui difendermi... ...si stanno pian piano esaurendo, quindi... Oh, per la prima volta in questo gameplay ho freddo, ragazzi. Incredibile. Non in caso, le mie risorse si stanno pian piano esaurendo, eh. Se ci facciamo caso. Ho solo 11 colpi per la pistola. 10 per il fucile. Dove cazzo sono finito? 10 per il fucile e... ...7 per il bengale. Vabbè, sono tante. Sono tante e nulla di cui lamentarmi, però... ...stanno scarseggianto. Sto morendo di freddo. Poglione. Ma guarda a te, oh. Ringrazio che voglio scoprire cosa è successo a Rudiger. Sennò girare la pistola verso lo schermo. Girarei... ...pezzo di merda. Due laggiosi. Hanno preso due lagglie e le avranno assunti. Queste non sono tracce di essere umano. Beh, per fortuna è andato giù. Mi sembra che le orme puntino di là, no? Tiriamo fuori l'artiglieria pesante. Tiriamo fuori l'artiglieria pesante che è meglio. È meglio uguale a una collutazione con un orso qua. Non mi farebbe troppo comodo, eh. Sarò onesto. Potrebbe essere... Uh! Ah, questa è la sua grotta! Abbiamo trovato la grotta del fu... ...del fusillo. Hai capito? Proviamo il carbone. Fa così freddo pure qua dentro? Ho trovato la grotta del fusillo, raga. Eh, non fa freddo qui. Vabbè, usciamo, usciamo, usciamo. Non tengo tempo da... Vedrai, vedrai Vedrai, vedrai Adesso andiamo verso le regioni più fredde del mondo Perché, che cosa hanno detto i ragazzi? La regione Valico Sconnesso È la più fredda di tutta The Long Dark Hanno deciso di creare una regione molto impegnativa Proprio per Come dire Metterla in parallelo con la Misery Mode E quindi è una regione letteralmente invivibile La più fredda di tutto il gioco Sentiero del minatore Hai capito? Hai capito il minatore? Ah ho capito dove sono Hai capito dove sono? Entriamo nella miniera perché abbiamo freddo Ci facciamo un sonnellino per scaldarci Dobbiamo ricucire Dobbiamo ricucire le calze Tutto quello che abbiamo danneggiato Credo che prenderò questo bengala Ah si e ci saranno anche i Timberwolf Giusto per Giusto per raggiungere un po' di spezia Ci saranno anche i Timberwolf Madonna 23 gradi dentro sta grotta Che miseriaccio Che miseriaccio a calda Allora vediamo questi stanno bene I calzini sono un pochino danneggiati Allora Reparoski Reparoski con tanta Vogliazzoschi Vada eh Uh Vada eh che conosco il karate È vero maledunosa Non c'è bisogno che lo scopri 41% bagnato Ok forse accendo Di che cazzo sta E sei deficiente Impossibile accendere un fallo Impossibile accendere un fallo al chiuso Ma che sei deficiente sei Ma hai dei problemi mentaloschi Zia T'ha posto Hai bisogno di assistenza medica È impossibile accendere un fallo al chiuso Siamo nel ragazzo di miniera Che vuoi che succeda Miniera di carbone I fumi I fumi da carbonella Rischiano per l'appunto di Fare combustione E poi creare un'enorme esplosione In tutto In tutta Great Bear Island Ma ho acceso un fuoco qua Ah no mi sto confondendo con Misery Mod Che ho acceso un fuoco qua Per combattere la claustrofobia La claustrofobicus Due acceleranti Ok ce li teniamo Per l'emergenza E niente Raccontatemi di voi ragazzi Mentre aspettiamo che la signorina Fallisca l'accensione del fuoco In quanto abbiamo riparato due vestiti All'85% abbiamo avuto successo Questo fuoco deve fallire Perché il gioco deve mostrarmi Che lui comanda Stardoce è cascato in pieno Perfetto Ora torniamo a morire di sede Su Acqua Riciclata Cuoci Acqua Seleziona Cuoci Allora Abbiamo qualcosa da bere Per mitigare Sì abbiamo 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 Mangia 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 Che buono Ok Questo possiamo abbandonarlo Oh sta arrivando una bufera eh Una bellissima Simpaticissima Buferoschi Sta arrivando a prenderci Eh una cosa che possiamo fare Al volo Quale sarebbe Uh posso pulire il fucile E pulisci il fucile È vero Si era inceppato un proiettile Nella puntata precedente Questo era perché il fucile è sporchissimo Ah Buferosca Buferosca Cattivosca Mi stai soffiando il vento No brava No brava Per niente brava Bevi tutto Bevi tutto Ne stiamo a farci dei caffè Come dei dannati Cuoci Caffettino Che Ah sì Non posso farlo perché non ho abbastanza acqua Quello che mi stai dicendo Esattamente Ma quante ne so Zio Tony Ma zio Tony Quante ne sai Allora continuiamo a ripulire il fucile Dov'è il fucile Azioni Ripulisci Ottimo Quindi l'acqua Ancora non potabile Uh io non spreco tempo Pulisci Pulisci Potrei anche cuocere dei fagioli In modo da Compensare per l'appunto Ma forse No col caffè caldo Dovrei stare bene comunque Quindi cuoci Barattulus decafetus Cuoci Barattulus decafetus Va cuoci Barattulus decafetus Ok Azioni Pulisci Non siamo mica qui a cinci schiare Ok Dammi qua Dammi qua Cuoci Barattulus decafetus Cuoci Barattulus decafetus Dov'è il mio termos? Dov'è cacchio è il mio termos? Uno Due Tre Ottimo Lavorus Ok Pulisci Che potenza Stiamo diventando sempre più bravi a pulire i fucii Bravo Bravo Cuoci Mi chiedo se A standard pass ci sia per l'appunto Acqua Mi serve acqua Se ci sia per l'appunto Acqua Una stazione per craftare munitions Perché dovrei avere della polvere da sparo vero? No l'ho buttata Sono stato così stontos Da buttare della polvere da sparo E' stato molto tontos Posso lasciarlo Che credo che fuori dalla zona contaminata non farà più Non ci sarà più il bisogno di Non ci sarà più il bisogno di maschere antigas Caso pulisci Eh Ha stappato il fucile Cosa c'avevi? Un tappo dentro Scusami Non è una domanda più che seria Bene Questo fucile è in perfette condizioni Guarda che bello che è Acqua potabile Acqua non potabile Raccuocis Baratlus decafetus Ok Prendi Raccogli Visto che ci sei Fammi un bel Mmm Mmm È una bella domanda Se dovermi Se farmi Se farmi Coso Come si chiama Se farmi coso O se farmi fagioli adesso È una bellissima domandus Ok Il caffè Sta raffreddando Ma va bene lo stesso Vai 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 Ok E direi che siamo a posto Aspettiamo che questo finisca E iniziamo a spostare tutto dentro Il Ah ho un altro caffè Poi un altro caffè dai Un ultimo caffè E poi ce ne andiamo Cuocis Baratlus decafetus Ok Siamo a posto Non so se farmi fagioli sai No dai No dai Dai amico mio Dieci minuti Bevi E dovremmo essere pronti Ok Dovrò anche cercare del cibo Dovrò anche cercare del cibo Sono in grossi guai Perché qui Beh magari se trovo un cervo gli sparo in faccia Sì Sì Non mi pento di nulla No aspetta Guarda qua il cibo Guarda quanto cibo Quanto ne vuoi Quanto ne vuoi Quanto ne vuoi Pensavo dovrebbe fatto freddo Cristo santo Invece fa caldo Abbiamo 3 gradi Però nella regione lì farà freddo Perché da quel che ho letto Si gira tra i meno 20 e i meno 40 gradi Tutto per il vento principalmente Però È comunque grave la situazione Bella madonna che stai partorendo A sorella mia E sta calma Qui sarà pieno di lupi Vedersi Sì Versi no Sì raga Cioè chiedetevi Nelle ultime puntate Abbiamo visto mezzo coniglio Credo di aver visto Ho visto un cervo No non credo di aver visto Ho visto un cervo In questa regione Ma nulla di più Conigli non ce ne sono Cervi è malapena Questa regione è proprio povera di selvaggine Nonostante sia accogliente Nulla da dire È accogliente da un punto di vista Temperatura dell'aria Ma fa un freddo boia Cioè Fa un freddo boia In fatto di fauna Non c'è niente da mangiare Nada di nada Eh ma mi sono perso Ma cazzo sto andando Andando di là io È bella canzone però eh Andando di qua Non mi ricordo L'ultima volta che strada avevo fatto Dai che avrei potuto prepararmi la bardana Sarebbe uscita una bella Un bel caffettino Le erbette Eh vabbè Stai per la prossima volta Sì era di là Ok Oh con un cervo La domanda è Lo uccido con l'arco O spreco un colpo di fucile Uccidiamolo con l'arco Dai Non dovrebbe sentirmi Arrivare E la madonna che c'è il sesto senso Il frattemollo Non posso Non posso attaccarlo dal basso Dai Sei un coso Ma che è Sono stato immobile Come un pinocchio Sono stato Scusate Mi sono stato un burattino Lì Pinocchio Pino Maledetto Ancora vivo Mi si è rotta solo Ho passato di qua Ah sì Dai questi Andi zio Aspetta Aspetta che ho bisogno Di due pezzi di carne Dai Non correre così Su che stai per morire Comunque Almeno muorimi vicino Dai Corre verso la sua morte Niente Quel mcdonald Non si mangia Ho solo rotto la mia freccia Porta storia Potrei Eh no Forse che in airfield L'ha il capanno Il capanno di coso È troppo lontano Non può funzionare Potrei tornare Forse che in airfield Pensavo Eeeh Nulla Forse che in airfield Andare lì Nella casetta Del Dell'isola E ci sono tre frecce Tipo Accogliere quelle tre frecce Non questa volta It's too late Mario Mario È troppo tardi Troppo tardi Mario Non mi esce Ogni tanto mi esce Però ho la voce un po' troppo Rauca Per far uscire Carino Super Mario Un gioco che Mi piacerebbe portare Anche Ma non so quando E per questo Molti mi odieranno È Luigi Mansions Raga Luigi Mansions 2 Sembra veramente divertente Sembra Vorrei portarlo Eventualmente Non so quando Considerando che sto facendo 40 serie in un colpo E non ho molto tempo Per girare Tra l'altro Non mi dispiacerebbe portare Luigi Mansions 2 Mi sembra Di aver visto O forse me lo sono solo sognato Pubblicità anche per il terzo Recentemente Luigi Mansions 3 Oppure me lo sono sognato Chi sa Se tu lo sai Dimmelo nei commenti Ratma Dimmelo tu nei commenti Se lo sai Ho preso il sacco Ok L'ho preso Bra Incredibile che non avevo trovato Mezza scarpa In questo posto Beh quasi quasi No aspetta Forse mi sono dimenticato Gli stivali anticontaminazione Forse mi sono dimenticato Gli stivali anticontaminazione Aspetta un attimo Aspetta un attimo Dov'è? Aspetta un attimo Credo di essere Mi sono dimenticato Veramente Gli stivali anticontaminazione È verissimo It's very very Tuss Magna Magna Perché Non ho Oh questa è una bufera E io ho appena bevuto un caffè Grandioso Grandiosissimo Grandiosamente grande Grande Iper grandus È un bengala acceso Vabbè i bengala accesi Non servono a nulla contro I bengala normali Non servono a nulla contro I lupetti malvagissimi Deve essere questo Non sbaglio Una cosa che devo dire Effettivamente in questa regione Che io non abbia trovato Mezza munizione Eh Ho trovato solo un colpo di revolver Dentro uno schedario Ma colpi Decenti Pulla Aspetta un attimo Mi sono ricordato una cosa C'è una zona che effettivamente Io non ho indagato Ma a parte questo No Non è questo l'edificio C'è una zona nella quale Io non ho indagato Rallenta un attimo Dove C'erano due case C'erano due case Chiuse a chiave Lo ricordo Sotto in miniere C'erano due case Chiuse a chiave E una non l'ho esaminata È verissimo È verissimo Una non l'ho esaminata Ora qui potrei essermi perso Degli stivali Anticontaminazione Le avevo trovate In misery mode Infatti Come ho fatto a non vederle Ah ma neanche le armadi Ho controllato Ma la grande proprio Come ho fatto a non vederli Ok 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 Allora questo nulla Ma il resto Prendiamocelo dai Ah si dai Non c'è anche delle bende Non lo so Considerando che potrei affrontare I timber wolf Potrebbero servirmi Ok Ecco qua Abbiamo delle scarpe Ma no Aspetta un attimo Perché comunque vi ripeto C'è una zona che non ho investigato Ed era una porta chiusa a chiave Quindi l'idea è che Se non ho missioni De Rudigerus È plausibile che ci siano delle cose interessanti Là dentro Ma qual è il modo più veloce Per raggiungerlo Di qua Di qua Vorrei evitare di prendere l'ascensore Perché la corda mi farebbe stancare Ma se vado di qua Dovrei fare abbastanza in fretta Mi ho controllato Cosa c'era qui? Una giacca da sci Beh Ci sono modalità In cui sarei stato molto felice Di trovarlo Qui sfortunatamente Non vale niente Ce l'ho lato? Ce l'ho la lanterna Oh Non ho olio però Ah sì Avevo tipo una borraccetta Ne ho Ne ho Allora veloci Veloci perché non ho molto tempo Quindi Beh in realtà Tempo ne ho a volontà Cos'è? Ah l'ho lasciata io La cuffia di lana Allora Mi sono Mi sono comunicato una zona No 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 Vale la pena controllarla Fidatevi di me Vale la pena E come se ne vale la pena? E almeno Qual è il punto? Tanto sta arrivando la bufera Almeno nel frattempo Mentre cerco La bufera passa Mi stanco abbastanza Dormo dieci ore E niente Camine Ti agita signora Per favore Non abbiamo tempo Per frignare noi Dai Beh sì Adesso c'ho gli stivali Quindi Questi sono immuni Al danno Da zona verde Credo Supongo Immagino Beh sono Sono irreparabili Questo è Un poco ma sicuro Ma Credo che anche Elevator Credo che anche Non subiscano O sono tanto resistenti Al danno da Oso Oppure sono completamente immuni Non so quelle delle due Sarò onesto Però So che sono forti So che vanno la grande Poi sono all'ultima moda Eh Cioè Puoi mettere Ho sbagliato strada Ah no Non l'ho sbagliata Fermo un attimo Devo scendere giù io Devo scendere giù io Che non mi ricordo bene Sì in ogni caso Devo scendere giù Quindi Prendi Ma scendere non dovresti Consumare tutta sta energia Signorina Per cortesia Per cortesia Su via Su via Non faccia così Tutta la stanca Che non ha fatto niente Ok Ok Andiamo Entra qua dentro Poi riprendi la lanterna Questa è quella luce lì Ah è una lanterna che ho acceso io Tempo Tempo solo E questo Lì c'è una casetta Che io non ho investigato Vero? Aveva bisogno della chiave No Non era qui Non ho investigato? No No Te l'ho detto Che c'erano Dei posti In cui non avevo investigato Maledizione Ok Acqua e cibo Buono Buono Perché dovrò dormire dieci ore Quindi ho bisogno di calorie adesso Poi sembrava qualcosa Poi mi sono accorto che non ho appena di abiti Visto così con la coda dell'occhio Sembrava Uh qualcosa di interessante Nah Eh no Ok Non c'è spray Uh Dammi dammi Dia 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 tutto Ok No non è qui Mi sono sbagliato Non è qui Perro 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 Che vuol dire anche cane in spagnolo Se non sbaglio Devo scendere giù Non ho investigato neanche qui Uff Puoi tenerteli Qui ho investigato perché è aperto Qui ho investigato perché è aperto Calzini di lana Ti sembro povero Ti sembro forse un poveraccio io Che ha bisogno di calzini di lana Scusami eh Mi stai parlando con un zio swag Ma cacchio è Ok No Per Madonna mia Azioni Rifornisce Beh ne ho poco eh Dovrei utilizzare la torcia dite Forse sì Forse sarebbe meglio utilizzare la torcia Non questa L'altra Ce n'è un'altra C'è un'altra Messa male Questa Questa qui Accendi Ok Usiamo la torcia Così almeno ci liberiamo anche di un po' di spazio Eeeh Nulla Andiamo Ok Sono stanco Quale gioia Dove cacchio era Quell'edificio di cui vi parlo Non mi ricordo Devo dire che A livello visivo Forse la torcia è quella che genera la luce più gradevole La lanterna è una luce troppo bianca Più che altro Sembra molto influenzata Dal respiro Dal buio E quindi crea questa specie di patina opaca Da fastidio alla vista Invece questo Alla greante Ok Ho capito dove Trovato Trovato E' qui E' qui E' qui Credo Penso Mercato Eccolo qua Eccolo qua Ha visto Ah 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 Ho fatto male ai miei calcoli Pensavo fosse questa la chiave Allora Allora L'altra chiave Dovrebbe essere Addosso Ad un Dammi qua Addosso Ad un signorino Che non mi ricordo dove essere Dove fu Forse di qua Che cacchio era Zio Uh Una merendina Amico mio Grazie Ho avuto addosso Una cote Non è quello che cercavo Dove potrebbe essere Altra chiave Era addosso un cadavere Vero Non mi ricordo anche Ah era qui Era qui Era qui Ecco qui Ecco qui Se andiamo di qui Esattamente E' un brutto percorso Tortuoso Ma Dovrebbe esserci un cadavere qui Dovrebbe esserci un cadavere lì A meno che A meno che non fosse dall'altra parte Io me lo ricordo lì Con la chiave Può darsi come può non darsi Non mi ricordo Non me ricordo Mamma mia Però camminare abbassati E' terribile Questa modalità Guardami 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 mamma Mentre striscio Non ferme Muoviti Muoviti che stiamo morendo qui Di vecchiaia A parte che di noia Sono passato di qui Ah eccolo lì Eccolo qui Il cadavere Il cadavere con la chiave Il damerino Il damerino cadavere Non c'è un altro posto dove morire Un po' più comodo Sai un po' meno claustrofobico Dove almeno potersi girare E dire Ehi qui son comodo Eccola qui Ufficio della miniera Dai che quasi quasi Mi metto a dormire insieme a lui Voglio dire A meno mi recupero un po' di energia E li c'entra con te Allora il mio Dovrei dirlo io Guardami Qui Sto aspettando che devo faccia Pum 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 Ho una fonte di luce Che si sta bruciando Voi non vi caghereste addosso Mettete senza fonti di luce Nella miniera così Nel mezzo della miniera Senza fonti di luce Non vi caghereste addosso Io si Io si Onestamente Così andare a A toccare tutti i muri Sperando di trovare l'uscita Invece stai solo scendendo in profondità No perché Allora c'è il buio C'è il vero buio Il vero buio Lo Lo vivete magari In campagna In una stanza chiusa In una cantina chiusa Di notte Quello è il vero buio Letteralmente Nero pesto Come se avessero gli occhi chiusi Non vedete neanche la mano qui Quello è il vero buio Poi c'è il buio In città dove veramente Tutto spento Ma ancora ancora si vede Si vede un qualcosina Quello è il finto buio Qual è l'oscurità Magari Possiamo definirla così Il vero buio è terribile Paura E malvagio Malvagio Le consuma Ma io guardo il carbone Che credo di averne utilizzato i due Non si sa mai Rimaniamo in linea con le riserve Dai signora Dai signora Signora Si muova Mamma mia Dai 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 Che ci abbiamo fatta This way out Grazie grazie consigliere Ma lì c'è una borraccia No è solo il bastone Oh Guarda qua la soda Ho fatto non vedere È stato 14 volte di qua Non l'ho ancora vista la soda Quante ne saprebbi Oh Lo sapevo Lo sapevo Me lo sentivo troppo Me lo sentivo troppo Che ci saranno state munizioni qua Sciarpone di lana lacero Lo puoi dare a tua nonna Quindi pulizia per il revolverus Nada Oh zio Vuoi mettere Sette colpe Trovato Guarda che sta musica Però non è che hai visto Sei carico Amico mio No fermo È scarico È scarico Allora ci faremo luce Sparando Con i colpi appena trovati Come Come i texani Ci faremo luce così Per strada Non sapevo che avrei trovato Delle munizioni Era 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 completamente impossibile Non trovare delle munizioni Ora Credo che sia anche questa La strada giusta Per arrivare fino all'ascensore Credo Ma potrei anche sbagliare Ti hai rotto il cazzo Ho tutto il rispetto Per i cazzi rotti Ma tu proprio Me l'hai sfondato il mio Corri Corri sorella Corri come se non ci fossero domani Ok Questa è la lanterna Qui si va a sinistra Mi ricordo Mi ricordo Non vi preoccupate Anche se è meglio far così Sto sprecando tempo utile Però Infatti vedi Avrei corso contro un muro Come un cretino Non avrei visto niente Vada 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 principessa Corra 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 Conrad Conrad Forza No il cuore sta battendo di meno Il cuore sta battendo di meno Signori Stiamo per mollare Ce la fa Ce la fa la principessa Ce la fa Ce la fa Ce la fa Su 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 Metti via Metti via Arrampicati Arrampi Cristo E Dio Sì Io ti picchio Ti picchio Ti picchio Vai 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 Veloce Sì 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 Minchia minchia Ma mi stanco Dai 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 Veloce Veloce Per favore Oh madonna E questo è il punto giusto? No Ancora 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 Ci siamo Ci siamo Ci siamo Guarda è lì È lì Lo vedi Lo vedi Oh cazzo No 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 Non ce la posso fare Non ce la posso fare Madonna Metti Sembra il caso Al momento proprio migliore Non salite più di così Perché Se avete finito L'energia E salite ancora di più Cadrete lì indietro E a seconda dell'altezza Da cui cadete Potreste morire Quindi Fermatevi immediatamente Prendete una pausa Come faccio io adesso Una bella cocchina fresca Un pochino al sapore d'uva Mangia 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 maledetta Guarda questa l'avevi mangiata a metà Come ti permetti Di sprecare cibo Ma effettivamente Potrei bere un caffè Qui E mangiamo anche questo No Se mi becco l'intossicazione alimentare Devo comunque bere 10 E dormire 10 ore Quindi Qual è il problema Antibiotici Ce li ho Eh Strato Allora mi sono beccato Un'intossicazione alimentare Me l'aspettavo troppo Lascia Dormi 10 ore Perché non voglio perdere HP HP preziosi per la sete E torniamo su Beh Teoricamente adesso la bufera dovrebbe essere finita No Non sono neanche curato al 100% Non ci vedo Ci vedo nulla È ancora buio pesto Allora rimetti il sacco a pelo Muoviti Metti il sacco a pelo E dormiamo altre Ah hai sete Eh vabbè E bevi Ti sono io per negarti Un bel sorsetto Un bel sorsetto di stiancia Ok E fai che dormire altre 3 ore allora Così non si fa giorno giorno E si vede tutto Ok Raccogli Così ci vediamo qualcosa Torniamo su Ok A questo punto l'avessi saputo Avrei dormito giù no Ottimo Non abbiamo lasciato nulla Possiamo partire per la Per la prossima ragione Per l'appunto Il valico di intermezzo Il valico sconnesso Il valico sconnessoso Quello che vuoi Ho preso il sacco a pelo Sì l'ho preso Ormai ho sbagliato così tante volte Ad abbandonarlo che Mi viene automatico Mi viene automatico Quindi abbiamo 17 colpi Per difenderci Ottimo Ottimo No Sei in pendenza Fareste porcate Caffonate Ma tra l'altro Ho guadagnato il gettone Lì Missionario Del Del posto Come si chiama Corvi se ne sono andati Vuoi dire che sta arrivando Un'altra bufera Eh impossibile Come si chiama Guadagnato il gettone Missionario Della zona contagiata Che in teoria Vediamo se si danneggiano Queste scarpe Sono solo resistenti 75% Vediamo Quando saremo arrivati alla fine Vedremo Se 75% Scende a 74 73 Se scende a 74 73 Vuol dire che È resistente Se non scende Vuol dire che è immune Vediamo Aria fresca Scorregge di Shrek Scorregge di love E di life Dai che abbiamo respirato Di peggio Carcasse di lupi Di conigli Di orsi No È vero Non abbiamo ancora ucciso Mezzo Cioè Orso per farci la pelliccia Avrei voluto farvi vedere Il jaguaro lì Il puma Se non avessero rimosso Invece i maledetti L'hanno rimosso Perché c'era gente Sensible Che Se la mandava A drobo No era come Vi ripeto Era più una punizione Che un Che una meccanica Di gioco In realtà era una vera e propria punizione Se dovevi Se camperavi troppo In una regione Ma vi ripeto Era qualcosa in più Che adesso non c'è Quindi motivo per cui Brutto Non brutto Per carità Magari andiamo a Miserimote Vedere un puma Che ti attacca Quando non ti puoi curare Mmm Ti tolgo il 50% Della salute Più l'acerazione profonda Mmm Capisci È proprio piacevole No? Lo comprendi Però D'altro canto Avevi la possibilità Di farti un coltello Con l'artiglio di puma È tipo un coltello Super taglientissimo È molto più efficiente Rispetto a tutti Gli altri coltelli Nella raccolta Carcasse Se non sbaglio Devo andare di qua Devo andare di qua Mi scusi È l'altro Ho sbagliato strada Eh Non devo andare di qua Andare di là Posso seguire la rotaia Cristo e Dio Si sei dimenticato? È forse tonto ragazzo Quanto? Uh Posso stare qui ancora un giorno Uh Posso prendere il sacco a pelo E dormire qui No ho sbagliato strada Dov'è cacchio Sto andando Andare a destra Ho ragione Ah di qua Guarda qui Avevo ragione Devo andare di qua Ma ho sbagliato strada Minchia ho sbagliato Questa è la cascata Questa è la cascata Cioè qui pensavo ci fosse Una cascata Ma mi sbagliavo Devo seguire la rotaia Sono un po' sconnesso Lo ammetto che sono un po' sconnesso Mi sono dimenticato come tornare indietro Cioè devo seguire le rotaie Ma Non queste rotaie Cristo santo Le altre rotaie Qui si dividono Ecco cosa ho sbagliato Ho seguito queste rotaie di qua Quando ci dovrebbero essere altre rotaie Che portano di là Lo sbaglio Lo svaldo Non ci sono alcune altre rotaie Che portano di là Ma Cristo santo Non mi ricordo come si torna Non mi ricordo come si torna a casa Porca puttana E se è un serio? Ciarvello Su Su Riparti Devo fare il riavvio Devo riavviare il sistema operativo Non mi ricordo come cazzo si torna indietro Di qua ho come l'impressione di andare per la punta verso la cascata Non ero passato di qua Non ero passato di qua Che sono deficiente Non ero passato Non mi prendere per il culo Non ero passato di qua Aspetta Non ero passato di qua Cosa cazzo ho sbagliato per strada raga? Sto cercando di ricordare Ma no Sono proprio Proprio spento Ma cazzo è possibile Ah No 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 Nessuna Dove cazzo era? Vuoi vedere che avevo ragione? Mi sono sbagliato? Che tipo dovevo andare di là? Come vi dicevo Cristo santo Ecco qua dove devo andare Di qua dove devo andare vero? No Perché si sale? What the fuck Allora Ripercorriamo i nostri passi Io so che devo andare di là Questo è un dato di fatto Devo andare in quella direzione Cosa minchia ho sbagliato Su serio? Che cosa minchia ho sbagliato? Fa freddo? Da quando? Le mie scarpe come sono messe? 95% Quindi sono immuni Oddio No 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 94% Fermo 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 bro Fermo 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 Guarda che si è accumulato Pian piano sto stronzo Insidioso Meglio evitare L'avvenamento chimico Andiamo in montagna va Sono perso Come un pollo Come un pollo Con binaguae Cosa minchia ho sbagliato raga? Mi ricordo troppo Di essere passato Tipo in una specie di Passo Tutto sto stile Non mi ricordo Dove cacchio fossi Oh buon dio Non fare Non spaccarti nulla Non spaccarti nulla Era di qua? Lo sai dove vuoi dirmi Che era di qua? Oh si era di qua Mi sa Perché mi ricordo Di aver seguito le rotaie? No era di qua Semplicemente Oddio Che tonto che sono Mi ricordavo Di aver seguito le rotaie Non chiedetemi perché Cioè Cervello in cancreno Un cretino sono Si è di qua È di qua No non è di qua Non ho mai Ragazzi Non è di qua Ma che è una barzelletta? Ma è cacchio possibile Che mi sia perso? Cioè In miserimondo Lo sono fatto avanti e indietro Senza problemi Qui sto avendo problemi A tornare indietro Non mi ricordo la strada Non posso fare quella strada Perché c'è C'è il veleno verde Che mi becco l'intossicazione Oh madonna Oh madonna Non puoi essere serio Non puoi essere serio Non puoi essere serio Amico mio Dai dai No no Veloce 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 No 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 Non hai respirato niente Stai bene Stai bene Stai bene Tu su su che stai benissimo Però 97% Ma che ho fatto Ad arrivare fin qui Raga E ho fatto tutta sta strada Dice sul serio Probabilmente sì E non mi ricordo Sì credo di aver fatto sta strada Ho seguito le rotaglie E ti portano direttamente A transfer pass Ok quindi ho ragione Non so Sono Sono stra confuso Mi sono stra confuso Non so come mai Mi converrebbe riposare Perché tra poco Mi becco L'intossicazione Ora facciamo Che accendo un fuoco Facciamo che mi accendo Un fuoco Al volo Perché se non so dove Devo per forza Riposarmi Per Rischio di insonnia Infermità Risolviamo subito Guarda come è arrivata Immediatamente Risolviamo subito Non ti preoccupare Accendi qua Ottimo Giugio combustibile Guarda che La nebbia Significa che non ci sono Che non ci sono bufere Quindi va benissimo 8 ore Mi sveglio con l'insonnia Ma Me ne frega Delle insonnia Me ne sbatto altamente Delle insonnia Sarò onesto Prendi la torcia Mangia Stiancia No questo è molto anche Per l'emergenza Ottimo Quanto ho di Avvelenamento chimico Ma non si è spento Sta soffiando un vento Piuttosto malvagio C'è un lupo Da qualche parte Occhio ai lupi Che questi sono stronzi Occhio ai questi sono stronzi Occhio 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 Dai amico mio Lasciami in bacio Lasciami in pace Vado per la mia strada Sono un forestero Un forestero di passaggio Un forestero Ah Un forestero Ha paura di entrare qui Alla grande Ragazzi Ragazzi addosso Fai bene Fai bene Fai bene Ti devi pisciare addosso Stupido luco Ragazzi ma che strada ho fatto io Per tornare indietro Non scoprivo a ritrovare la via di Di ritorno Per transfer pass Ma l'ho trovata immediatamente Nella cazzo di misericordia Com'è possibile che io stia avendo Questi problemi qui Cosa è che mi sta confondendo Un po' d'acqua Cosa è che mi sta dando Questi problemi qui Ah mia pure sto vento Non è che può soffiare da un'altra parte Eh che cacchio Ci stanno cercando di orientarci Non si vede niente Poi ci metti pure tu Siamo al posto Sì seguiamo le rotaie Le rotaie sicuramente Sono connesse a Una zona Nuova O vecchia Quindi secondo me Seguendo le rotaie Riusciremo ad arrivare A transfer pass Perché non mi ricordavo Sta strada Ma la sono completamente Cancellata dalla testa Non è passato molto tempo Eh Dall'ultima volta che l'ho fatta Uè Un lupetto Sulla rotaie è morto Sono stato io Probabile È alquanto provabile Non è un posto tranquillo Dove morire No Se fosse stato Fuori Da un'altra parte In mezzo a un prato Da qualche parte Maciulato Allora è un lupo ambientale Ma se lì sulle rotaie Perché sono stato io Anche questo Non me lo ricordo Non mi ricordo I miei peccati Quindi non riuscirò mai A superarli Non riuscirò mai A spiarli Io spero veramente Sia la strada giusta Perché non me la ricordo affatto No non è questa Su via Dai Sono sicuro Non è questa Io non ci credo Non riesco a trovare La via di ritorno C'è un altro lupo Beh almeno adesso cammino Con il vento Dalla mia Quindi Sono molto Molto più veloce Torniamo indietro va No lo sapevo Lo sapevo benissimo Che non era questa la strada Perché il mio istinto Il mio orientamento Mi dice No non è di qua Ne ero sicurissimo Che non fosse la strada giusta Ma qual era la strada giusta zio Oh mamma mia Non me lo ricordo affatto Era in quella direzione Era sulla destra Era sulla destra Per forza Ma dove Vai a capire Altro rischio di avvelenamento chimico Oh come sto Beh Sto bene Sto bene Posso ancora respirare un po' Esci da qui possibilmente Ok finita la notte Oh finalmente ci vedo qualcosa Già al buio Non si vede Già non si vedeva Niente prima Figurati con la nebbia Se avessi trovato La via d'uscita Ma raga È uscita una patch Che ha cambiato la mappa Non lo so Non credo Vuoi dirmi che veramente Magari è uscita una patch Che ha cambiato la mappa Non credo C'è un carretino Io non riconosco il posto Molto più probabile E sono riapparsi i lupi Qui c'è un cartello E vorrei leggerlo Sempre che il lupo non mi mangi Dov'è Mindsight Ok Andiamo andiamo Sì 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 dai Premo tutto Mindsight Vediamo Oh mamma mia Mi vergogno un botto adesso Mi sto vergognando un botto Com'è possibile che mi sia perso È uscita una patch Che ha aggiornato la mappa Non riesco a capire Cosa stia sbagliando Gola del segnalatore Allora ritorniamo indietro È crollata la montagna Perché ho completato il Può darsi che sia crollata la montagna Perché ho completato coso? La missione Potrebbe anche darsi È una cosa che non sapevo Volete dirmi che è veramente È crollata la montagna O qualcosa del genere No raga Io vi giuro Che la direzione è quella La direzione è quella Bastava seguire le rotaie Non ho più pari Di cosa abbia sbagliato Si arrivava di là Forse completando la missione È crollata la montagna Devo trovare un altro modo Per raggiungere il prossimo capitolo Può darsi Ma non mi pare di averlo letto Da nessuna parte Delle patch notes Intendo Andrò ad informarmi ma Raga siamo bloccati qui Nel momento Non ho alcun modo per procedere Non so dove andare Probabilmente c'è un punto di arrampicare La casca Ho seppellito i resti In fondo Ma era quella La strada Ma vabbè Lo vedremo nella prossima puntata Vi ringrazio Non dimenticate che siete migliori Vi auguro il meglio Grazie